Gli argini di una lama hanno ceduto e la zona asi o zona industriale di Molfetta è stata completamente allagata con la disposizione del commissario prefettizio Passerotti di evacuare e chiudere completamente la zona stessa. Dalle 5.30 del mattino e sino alle 14 con un picco attorno alle 11.30 sono caduti nei pressi della zona industriale di Molfetta oltre 50 mm di pioggia. Le strade sono divenute vere e propri fiumi in piena e molti lavoratori oltre a diversi astanti presenti nelle attività commerciali del luogo tra cui i centri commerciali sono rimasti completamente bloccati. L'acqua è arrivata abbondante in prossimità anche della strada statale 16 bis. Sul posto sono intervenuti la polizia municipale, i carabinieri e i vigili del fuoco a cui si stanno aggiungendo anche diverse squadre provenienti dalla centrale operativa di Bari.